Oggi spendiamo 230-240 euro a tonnellata per smaltire il nostro umilo. È chiaro che se noi avessimo sul nostro territorio un impianto, una fabbrica ecologica, probabilmente spenderemmo 100-110 euro, quindi un minore impatto da questo punto di vista sui nostri concittadini. In un'area DOC-G, io sfido a trovare in un'altra parte d'Italia in cui si fa un biodigestore in un'area DOC-G. Per cui io direi di toglierci dalla testa questa ipotesi e di ragionare effettivamente su quello che la stessa Regione Campania nella legge regionale ci mette a disposizione, cioè impianti industriali con adeguata urbanizzazione, con assetto viario adeguato. Siamo per sì agli impianti, purché si tenga conto di alcune regole. Non è che noi siamo contrari, per esempio, a Savignano oppure ad un'altra area del territorio. Ragioniamo, però arriviamo ad una definizione. Vorrei fissare un pochettino dei paletti. Gli impianti di compostaggio di tipo anaerobico di ultima generazione sono inquinanti, producono impatto ambientale pericoloso per la salute dei cittadini? Sì o no? Perché se noi ci mettiamo d'accordo sul fatto che non sono inquinanti, allora discutiamo sulla localizzazione. Su Savignano, dove c'è una discussione in atto, nel caso dovesse andare avanti questa ipotesi, perché siamo semplicemente all'inizio, ci troviamo con delle difficoltà oggettive, che stiamo parlando di un PIP dove c'è una proprietà, un'azienda disbessa, e che io, non avendo poteri commissariali, che vado là, la es proprio e me la prendo, quindi c'è da fare tutto un ragionamento. Sono già svariati anni che si discute di questa cosa ed è chiaro che dobbiamo giungere a una conclusione.